Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Fondazione CRT Nella prima parte è tornato a un mese circa di distanza, perché l'altra volta era il 16 se ho visto bene, a un mese di distanza il professor Guglielmo Cevolina, docente universitario di diritto pubblico. Sì, questa volta ha fatto centro. C'è voluta l'emergenza per farmelo ricordare all'Università di Udine con il quale parliamo anche della situazione da coronavirus da un punto di vista diciamo internazionale. Prima però ci sono due cose che dovevo sottolineare. La prima ricordiamo intanto che vicino e lontano in queste settimane va avanti online. La prossima settimana inizia da lunedì alle 19 e poi con una cosa anche alla sera di lunedì e poi anche ci sarà Lucio Caracciolo ecco. È tutto online per la prossima settimana e poi invece in presenza sarà a ottobre. Poi dopo invece volevo chiedere un'altra cosa che mi sta facendo un po' divertire, partendo da una domanda che mi sono posto per dire la verità questo pomeriggio. Elezioni statunitensi, si sa qualcosa? Io ho perso un po' il conto. Allora, a quanto ne so io, e qui non ho notizie dirette ancora, nonostante sono membro del consiglio di corso del Master in Intelligence dell'Università di Udine, nella CIA, nell'FBI mi chiamano e mi informano. A parte gli scherzi, in realtà non dovrebbe essere, io seguo sempre un aggiornamento almeno settimanale dagli Stati Uniti e non è ancora stato deciso questo. Non è ancora stato deciso, sebbene sono state sospese gli ultimi aspetti delle primarie, però ormai i candidati si sono manifestati e Biden l'ospedante e Trump saranno loro dunque in sostanza. Allora, però non è ancora deciso se ci sarà un rinvio. Ecco, circola un'ipotesi... Sono previste a novembre. A novembre, sì, di solito è il secondo martedì di novembre o il primo, adesso non mi ricordo. Però volevo chiedere una cosa, perché circola un'ipotesi abbastanza strampalata per quanto riguarda il Partito Democratico, che cioè Biden andrebbe a candidare Michelle Obama come vicepresidente. Qualora fosse eletto, e anche su questo insomma non è, qualora fosse eletto dicono, lui dopo un po' mollerebbe per interposte ragioni di salute, c'è un termine che adesso non per incapacità, ma credo una cosa di questo genere, in modo che poi regolarmente la Obama diventerebbe presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro ricordo che nella storia abbastanza recente degli Stati Uniti c'è stato un presidente che è andato su senza essere stato manco votato, perché Ford sostituì Nixon ma non faceva parte del ticket originale, subentrò a Spiro Agner dopo il Watergate, eccetera. Al di là di queste ipotesi che circolano, non sarebbe impossibile da un punto di vista procedurale, però il fatto stesso che sia uscita la dice lunga anche su come, a mio avviso, i democratici siano debolissimi in ogni caso. Ma questo è un po' il problema del Partito Democratico, cioè c'è stata una selezione per la leadership, diciamo, per la candidatura che ha diviso, è stata fortemente divisiva e anche il recupero di Sanders e degli elettori di Sanders è quantomeno dubbio, ecco, perché si faceva portatore Sanders di delle opzioni che molto probabilmente nemmeno gli altri democratici vorrebbero sostenere. Pensiamo per esempio al sistema sanitario che sosteneva Sanders, cioè un sistema sanitario sul modello europeo, non il socialismo, ma il sistema sanitario sul modello europeo e sul modello magari addirittura italiano, farebbe terrorizzare gli Stati Uniti. Gli americani hanno una visione completamente diversa dalla nostra, ecco, queste cose. Sono degli aspetti anche per noi difficilmente comprensibili, ecco. Però sono le distanze tra gli elettorati, ecco, queste. Però ecco, si manifesta sempre di più questa complessità, criticità, conflittualità nel Partito Democratico e questo è un elemento di debolezza, ovviamente, del Partito Democratico, mentre l'elemento di forza sarebbe, come avevamo anche anticipato, un po', proprio la difficile gestione da parte di Trump dell'emergenza coronavirus. Questa gestione è una gestione estremamente problematica. Abbiamo visto che proprio in questa fase, in queste ore, sembra il paese più colpito degli Stati Uniti, ecco. E quindi qualche responsabilità, certo, può essere attribuita alla gestione di Trump, che è stata sicuramente... Troppo disinvolta all'inizio, insomma. Sì, sì. Allora, lasciamo gli Stati Uniti, lasciamo da parte. Abbiamo appreso che, per quanto riguarda la regina d'Inghilterra, ci sarà una sorta di... Ho letto da qualche parte, ho fatto un po' sobbalzare, per dire la verità, una sorta di esilio, perché sembra che, per questioni... Siccome anche la Gran Bretagna non se la passa tutt'altro che bene in questo momento, quindi la regina rimarrà assente da impegni uffici... rimarrà confinata a Windsor per perlomeno due mesi. Vediamo invece questa questione appunto di chiusure e aperture nel resto del mondo e in Italia, dove ci sono, che ne so, delle fughe in avanti, degli stop, dei passi indietro, eccetera. Lì da che cosa anche dipende? E c'è anche ulteriormente la, come posso dire, la difficoltà dell'Europa di porre, se non una regola per tutti, ma come minimo una sorta di, come posso dire, di parametro che possa essere utilizzato un po' dappertutto, ecco, insomma. Beh, ecco, l'Europa sicuramente ha mancato in coordinamento, cioè l'Europa che non ha delle competenze specifiche in materia di sanità, però avrebbe potuto, sia perché è un'emergenza mondiale, sia perché è un'emergenza che ha colpito pesantemente il territorio dell'Unione Europea, avrebbe potuto coordinare le misure e anche la fase di riapertura. Invece siamo in ordine sparso. Ecco, l'unico aspetto forse di coordinamento che si sta verificando è almeno il dialogo tra Francia e Germania, sembra per la riapertura dei confini interni all'Europa. Sembra che proprio in queste ore ci sia del dialogo per cercare di riaprire questi confini interni. Teniamo presente che tra i vari aspetti che si sono sospesi con l'emergenza, oltre alla sospensione dei vincoli di Maastricht, oltre alla sospensione degli aiuti di Stato, della disciplina degli aiuti di Stato, oltre a questi aspetti c'è stata la sospensione di Schengen in pratica, perché qua non si può passare i confini in sostanza. E allora l'unico dialogo che adesso sta riemergendo è questo tra Germania e Francia, che almeno tra loro stanno pensando di riaprire. Questa questione invece che è letta in un certo modo, è annunciata in un certo modo, è abbastanza spiacevole. Per esempio dei corridoi privilegiati per favorire il turismo in certe nazioni dell'Unione Europea rispetto ad altre, che quali conseguenze potrebbe avere, non dico economiche, perché quello poi è abbastanza immaginabile, ma proprio anche a livello di diplomazia, se vogliamo. Ma diciamo che siamo alla follia, nella mancanza di coordinamento. Succedono le cose più assurde. La Spagna, che è uno dei principali, ci supera nell'accoglienza turistica, sembra che, ma questa mi sembra una follia, voglia imporre i 15 giorni di quarantena agli stranieri che arrivassero in Spagna. Quindi è evidente che a quel punto, se uno ha prenotato una vacanza di 10 giorni, si autoesclude. Poi la Grecia, poverina, che pietisce una riapertura dei confini almeno a metà di giugno, perché se no si vede distrutta la stagione turistica estiva, sta succedendo veramente di tutto. Ma la cosa peggiore, purtroppo, che abbiamo visto sul versante europeo, è la sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco che ha minato alle radici le regole europee, prima di tutto mettendo in discussione l'indipendenza della Banca Centrale Europea, pretendendo che la Banca Centrale Europea non possa acquistare titoli di Stato se non nel rispetto della proporzionalità e quindi, per esempio, per noi italiani non potrebbe acquistare circa il 30% come sta facendo della sua spesa per sostenere praticamente lo spread perché non ci sia un differenziale eccessivo quindi per difendere l'eurozona. Dall'altro lato, è stata sempre da questa sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco messa in discussione anche la centralità della Corte di Giustizia dell'interpretare i trattati perché il Tribunale Costituzionale tedesco si è arrogato per certi versi anche un ruolo di interpretazione dei trattati e quindi ha messo fuori gioco sempre la Corte di Giustizia sempre con il ragionamento che l'Unione Europea alla fine non si sa che cos'è da un punto di vista giuridico e quindi bisogna che gli Stati hanno la possibilità di intervenire con le loro corti quando ci sono delle decisioni incompatibili col diritto costituzionale interno. Questo per l'euro. Per gli altri paesi diciamo riprendendo un po' diciamo un viaggio nel pianeta diciamo che i soggetti da tenere presente sono sicuramente la Russia per esempio che è un altro paese molto ottagiato sembra che abbia dei numeri un po' nascosti certo dall'autoritarismo di Putin e Putin che da un punto di vista dell'emergenza economica invece avrebbe fatto l'errore di innescare una guerra per il prezzo del petrolio con l'Arabia Saudita e quindi avrebbe aggiunto la criticità della sospensione perché comunque c'è stata una sospensione delle diritte produttive anche in Russia avrebbe aggiunto la criticità del prezzo del petrolio della guerra per il prezzo del petrolio che molto basso decide tantissimo l'economia russa che è fortemente dipendente dall'esportazione energetica e quindi collegata al prezzo del petrolio quindi qui è un altro paese che rischia di prendere delle scopole pesantissime non solo dal punto di vista sanitario ma dal punto di vista economico un altro paese in grave crisi molto probabilmente sarà il Brasile che in America Latina è il paese molto probabilmente che si è comportato nella maniera più sconsiderata ci sono paesi come ad esempio la Colombia che io seguo sono stati abbastanza rigorosi nonostante la situazione anche loro di difficile controllo immagino in certe zone delle sorta di favelas che ci sono anche a Bogotà per esempio però in America Latina e in particolare in Colombia girano oltre che le mascherine anche delle misiere da saldatore tra virgolette trasparenti plexigas cioè delle corne che noi non abbiamo notato per esempio quindi sono molto rigorosi la Colombia è il paese più rigoroso nel tentare di difendersi dal coronavirus ecco ritorniamo un secondo agli Stati Uniti a Trump sotto una battuta Trump ha criticato molto l'organizzazione mondiale della sanità ha criticato molto le elite diciamo sanitarie e quindi il gioco che sta facendo Trump è quello di sperare che in sostanza il virus non si diffonda tanto e si riesca a riprendere come sta facendo a causa anche della decisione dei governatori anche degli stati democratici che hanno tutti riaperto diciamo nello Stato federale gli stati chiediti sullo Stato federale gli stati membri hanno una competenza per quanto riguarda le attività economiche la riapertura e quindi quasi tutti gli stati hanno riaperto e comunque Trump spera ecco di superare con diciamo le sue misure romuanti cioè assenti praticamente e di poter criticare l'elite come sempre l'establishment è una scommessa anche qui potrebbe pagarla cara le chiedo una cosa so che poi lei coglie anche l'ironia o la provocazione ma ci stavo pensando mentre lei prima raccontava della Germania no? siamo sicuri che la Germania abbia perso la guerra? quale guerra? la seconda la seconda perché francamente adesso voglio dire ieri ho dato questa risposta in un contesto che è un po' troppo lungo da spiegare molti poi in posta elettronica mi hanno chiesto spiegazioni e oggettivamente certo Hitler ha perso la guerra il terzo Reich ha perso la guerra il nazismo ha perso la guerra non so se l'ha persa la Germania per dire la verità la Germania l'ha recuperata dal punto di vista economico ci sono alcuni che sostengono che non ci sono più i caro armati non ci sono più non c'è più l'Hitskrieg non ci sono più quelle azioni che ha fatto Hitler diciamo ma c'è l'economia io direi che questo non è non è vero non si può interpretare così perché la Germania pensiamo la Baviera che conosciamo magari o anche direttamente la Baviera ha dei grandi partiti che hanno anche nella solidarietà il loro principio generale quindi c'è un po' sicuramente una sfida ovviamente che dipende anche tra classi dirigenti anche all'interno per esempio dei del partito dei due partiti federati popolari che aderiscano al partito popolare europeo in Germania perché hanno la sfida ovviamente del populismo di Alternative Deutschland e così via però però diciamo c'è anche quest'anima solidarista ecco della Germania certo la Germania ha il terrore proprio dell'inflazione al terrore del disastro economico e questo è l'elemento forse più più critico ecco quindi io non penso ecco che la Germania certo il dato egoistico di personaggi alla Schäuble che anche un po' anche un po' la Merkel almeno inizialmente insomma aveva preso posizioni abbastanza dure poi però ecco per esempio c'è il poliziotto buono il poliziotto cattivo direi perché la Merkel fa il poliziotto cattivo poi c'è la von der Leyen che è la Presidente della Commissione che fa invece il poliziotto buono quindi ecco però il problema è che l'Europa è assente per esempio e quindi la Germania per esempio sul versante dell'economia ha già dato delle risorse economiche alle imprese ai cittadini che per esempio noi italiani non siamo riusciti a dare ci siamo completamente in questo tentativo di fase 2 incartati allora cambiamo cambiamo argomento basta guardare oggi sulle prime pagine online di Repubblica o del o del Corriere della Sera molto si parla del caso del caso Silvia Romano cioè della liberazione della cooperante che è rientrata convertita all'Islam e mi pare di capire che questa volta il pagamento del riscatto è stato ammesso o comunque su questo magari non sono molto preciso oggi in Parlamento c'è stata anche una una bagarre per una frase di un deputato leghista Salvini è intervenuto diciamo facendo un po' da pompiere stupisce ma non più di tanto l'atteggiamento della Meloni perché la Meloni in una dichiarazione ha detto importante era portare a casa portare a casa un italiano quindi non stupisce più di tanto perché per esempio certe prese di posizione da parte di fratelli d'Italia quando si tratta di problematiche di questo genere sono abbastanza comuni per dire la verità ciò non toglie che insomma come ogni volta quando si tratta del rientro nel nostro paese di un cooperante e in questo caso a maggior ragione polemiche su polemiche ma allora è intervenuta persino Ornella Vanoni tanto per dire primo beh ci risparmiamo ci risparmiamo Ornella Vanoni no il la riflessione prima è quella tecnica un po' sul pagamento allora intanto non è una sconfitta pagare il nostro paese spesso anche nelle missioni internazionali per avere buoni rapporti con la popolazione intanto riversa servizi sanitari costruisce ospedali quindi spende delle risorse per avere dei buoni rapporti c'è anche il dubbio che qualche volta anche paghi per non avere attacchi dei nostri clienti la modalità poi di soluzione di questi sequestri diciamo prevede anche una soluzione positiva attraverso il pagamento il problema è che intanto non dobbiamo essere solo noi a pagare perché se siamo solo noi a pagare ci trasformiamo in i nostri cittadini all'estero si trasformano in walking money cioè soldi che camminano e quindi sono visti come soggetti da rapire proprio per il finanziamento da parte dei gruppi terroristici quindi non dobbiamo essere solo noi a pagare è però una modalità di soluzione del problema ecco non è una cosa vergognosa e comunque per ora sembra che non siamo solo noi a pagare e quindi la cosa si può accettare direi che è stata invece una buona soluzione dei servizi comunque dei nostri servizi perché teniamolo presente se non si risolve in qualche modo queste situazioni ci potremo trovare in un altro caso Regeni cioè caso Regeni ha avuto è stato colpito un nostro nazionale e non se ne è saputo bene le ragioni responsabili e così via ecco lì c'è un fallimento ecco della nostra nelle nostre relazioni internazionali ecco invece quando si risolve è un po' come quando si fa una causa alla fine se la causa si evita con una transazione io direi come avvocato è sempre meglio e la questione della conversione ecco la questione della conversione io ho sentito e ho letto delle interessanti delle interessanti posizioni molto belle sia dell'avvenire sia anche del diciamo dell'imam che si propone come destinatario diciamo dell'accoglienza di quest'anima così convertita ecco ma io direi che una persona che è stata un anno e mezzo dei carcerieri ma può essere così di aver preso una cantonata ecco io come cattolico penso di poter dire che la chiesa cattolica non so l'eucarestia ha la confessione ha degli istituti che sono un pochino più avanzati da un punto di vista anche teologico rispetto all'islam che è una religione abbastanza formale anche dico per scherzo adesso abbiamo i confessori che possono fare in parte il ruolo di uno psicanalista anche per certi casi a gratis anche quindi comunque ecco la nostra religione è una religione molto più complessa vedremo insomma se rimarrà questa posizione però ecco grande rispetto per la libertà religiosa e anche diciamo trovato questi toni sia nell'avvenire sia nell'imam abbastanza interessanti chiudiamo professore parlando di questa missione Irini ecco la missione Irini è una missione dell'Unione Europea che ha come compiti il monitoraggio del mare per quanto riguarda il contrasto alle armi all'entrata delle armi all'immigrazione clandestina e alla vendita del petrolio ecco però dal punto di vista delle armi crea qualche problema perché è un monitoraggio sul mare e Haftar è approvvigionato per terra e per aereo quindi non serve a impedire a Haftar che ha attaccato anche la nostra ambasciata in pratica ha attaccato l'ambasciata turca o comunque le abitazioni dei nostri ambasciatori e dell'ambasciatore turco a Tripoli quindi un soggetto che ad aprile ha attaccato Tripoli in maniera pesante quindi ha attaccato l'autorità riconosciuta a livello internazionale cioè Serragi con anche delle prese di posizione da parte del capo della procura della corte penale internazionale che ha detto che a questo punto Haftar è al di fuori del tavolo delle trattative per questo suo comportamento ecco questa missione che è a guida italiana è stata criticata da Serragi dicendo guardate intervenite con questa missione che non ci aiuta perché lascia libero Haftar di procurarsi le armi con i suoi scali aerei e arrivo gli armi via terra quindi non ci aiuta l'unico soggetto che ci ha aiutato è la Turchia e infatti la Turchia ha ottenuto un memorandum di collaborazione con la Libia sul mare e anche per lo sfruttamento delle risorse energetiche quindi vedete ci entra un po' in contrapposizione la Turchia nel ruolo di sostegno con la Libia e noi passiamo sicuramente in secondo ordine e questo è un po' accaduto anche nella vicenda di Silvia Romano perché in qualche modo è stata assicurata una collaborazione dei servizi turchi anche se adesso la questione del giubbotto è passata in secondo ordine con il marchio della Turchia del giubbotto che aveva Silvia Romano del giubbotto antiproiettile sembra che sia una foto falsa ma a parte questo aspetto comunque c'è stata la collaborazione dei nostri servizi dell'Aise o dai servizi turchi perché i servizi turchi in Somalia sono più avanzati rispetto ai nostri servizi italiani spesso le faccio un'ultimissima domanda abbiamo andremo un po' andremo un po' oltre ma questo pomeriggio ha chiamato una signora e ci ha raccontato una sua una sua disavventura diciamo così che le era capitata in Russia nel senso che aveva le era stato rubato il portafoglio con dentro i documenti compreso anche il visto turistico ad un certo punto la signora che viaggiava per terra quindi non in aereo e insomma si è rivolta al consolato credo di Mosca dove stava le hanno dato un documento sostitutivo anche per ritornare in Italia arrivato al confine Russia Ucraina la signora è stata fermata dicendo questo documento noi in Ucraina non lo riconosciamo non lo riconosciamo allora questa signora poi è riuscita con l'aiuto di un funzionario russo a rientrare in Russia piuttosto fortunosamente a prendere un aereo quindi è rientrata ce l'ha fatto eccetera però in questo momento di limbo dove le è toccato stare per qualche ora è riuscita a telefonare al ministero degli esteri e il ministero degli esteri le ha risposto noi non rispondiamo degli errori di un consolato adesso al di là è tutto è una risposta da sentirsi dire dal ministero degli esteri una cosa di questo genere ma su questo versante dobbiamo per esempio sfruttare anche la cittadinanza europea per esempio nel caso in cui il nostro paese non si è in grado di sostenere la propria diplomazia in un certo paese possiamo rivolgersi anche a un altro consolato però ecco qui mi sembra che prima di tutto ovviamente c'è la conflittualità Russia e China che io ho toccato con mano in tavoli diplomatici in conferenze internazionali c'è una conflittualità estrema e quindi dispetti diplomatici ecco questa situazione è ben conosciuta dal nostro personale diplomatico quindi come dire dovrebbe trovare delle soluzioni a supporto ecco del nostro del nostro personale di chi ha dei documenti italiani in sostanza perché il dovere questo è il nostro dovere quindi mi sembra un po' strano questo comportamento ecco e anche perché è previsto un diritto di ritornare in Italia almeno da questa emergenza e questa disciplina l'emergenza complicatissima sicuramente si può rientrare grazie professore per essere stato con noi è sempre piacevole ci vediamo tra un mesetto noi abbiamo sempre di mese in mese grazie professore grazie professore Cevolini grazie grazie buon pomeriggio e buon lavoro adesso chiudiamo il collegamento con il professore pubblicità